La categoria pesi leggeri, l'angolo brù della palestra OP Gym accompagnato dal tecnico Franco Kerchi, peso 62 kg, 4 match all'attivo, 3 vinti e uno perso, è un mancino, facciamo un applauso a Donatello Perrulli! L'angolo rosso, il Fressy Bops in team accompagnato dal tecnico Fressy Suizzo, il suo peso 60,9 kg all'attivo 8 match, 2 vittorie, 2 sconfitte, 4 pareggi, give it up con mister Osvaldo Bumbum Cagliardi! Grazie a tutti! 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 della prima ripresa. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.